Partire con uno schieno di massa con gli operatori, i nostri operatori che da marzo sono in piena campagna, quasi non di guerra ma quasi, è un problema molto molto importante, però abbiamo la risposta degli operatori c'è stata, più o meno metteremo in campo circa 100 operatori al giorno tra il peso e l'urbino, dal 18 al 23, gli orari sono dalle 8 alle 13, dalle 15 alle 19, perché chiaramente gli operatori abbiamo dovuto privilegiare il fatto che gli operatori molto sono turnisti quindi debbano rientrare nel luogo di lavoro, quindi non potevamo chiudere reparti e quant'altro. Riusciremo a fare circa sui 26-29 mila tamponi in tutto il periodo tra Pesoro e Urbino, quindi pensiamo che la risposta che riusciremo a dare è adeguata a quello che sarà l'accesso della popolazione, anche perché non è suo invito, volevo ringraziare chiaramente la regione che ha pensato di proporre su larga scala questo screening, anche perché per noi la prova del 9 è per il futuro, cioè quando saremo tutti impegnati a fare la vaccinazione di massa a tutta la popolazione, quindi è veramente una prova del 9, è la prima volta che viene fatta su larga scala uno screening così importante e vediamo come rispondere alla popolazione e come risponderemo anche noi, perché come ho scritto ieri a tutti i collaboratori, tocchiamoci tutti gli amuleti possibili perché è la prima volta che facciamo un qualcosa di così diffuso all'interno del territorio. Il distretto e il dipartimento di prevenzione di concerto con le anagrafi stabiliranno come comunicare alla popolazione interessata il luogo in cui verrà fatto per quel quartiere, per quella popolazione, lo screening. Chiaramente lo screening viene fatto in maniera, si chiama un test rapido, la risposta si ha circa in 10 minuti più o meno, siccome un test rapido, la sensibilità è particolare, l'eventualità che viene il test rapido positivo, normalmente in Italia la popolazione che è positiva con questo test è intorno al 2-3%, verrà sottoposto immediatamente al tampone, ok? Quindi il soggetto verrà chiamato perché nella scheda che firmi il soggetto c'è anche il numero telefonico, quindi chiameremo il soggetto positivo e farà immediatamente il tampone per vedere se è positivo veramente o è negativo. Chiaramente dovrà rispettare tutta la quarantena, quello che tengo a precisare. Lo screening di massa è invito a tutta la popolazione, ad eccezione dei minori di 6 anni, di tutti coloro che fanno gli screening periodici, quindi tutti gli operatori sanitari sono esclusi, logicamente chi è degente in ospedale, chi è degente presso le case di riposo, le strutture residenziali, questi no perché nei centri di uni noi facciamo gli screening ogni 15 giorni, e chi ha sintomi. Importante dire questa cosa che chiunque abbia sintomi, anche il giorno stesso che intendeva fare lo screening di massa, non si deve presentare e deve logicamente chiamare il proprio medico di medicina generale per attivare i percorsi corretti. Abbiamo cercato di organizzarci al meglio con tre location, con tre grandi parcheggi, dividendo la città per quartiere, quindi la parte a nord interna che va a Vitrifrigo Arena, la parte più centrale della città andrà al campus Colastico, invece la parte a nord della città più il centro del mare andranno alla scuola alberghiera. Quindi così dividiamo i cittadini, evitiamo più possibile file e assembramenti, nel caso di fila, perché non si farà la prenotazione, gli anziani e coloro che hanno disabilità ovviamente avranno la precedenza, passeranno avanti. Quindi gli ambienti sono tutti chiusi e riscaldati, abbiamo avuto grande collaborazione da parte delle scuole superiori, che in questo momento sono chiuse, in gran parte chiuse, e quindi speriamo appunto che siano sei giorni nei quali aumenteremo il controllo e di conseguenza la sicurezza sanitaria della nostra città.